carissimi fratelli carissime sorelle carissimi amici la pace del signore sia con tutti quanti voi dio vi benedica in questo nuovo giorno che egli ci concede vi voglio invitare a riflettere insieme a me su dei versi che si trovano nel nuovo testamento in matteo al capitolo 26 leggeremo il verso 67 68 dove è scritto che allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono dicendo o cristo profeta indovina chi ti ha percosso siamo ormai alla fase finale della vita terrena del nostro amato salvatore a breve sarà crucifisso morirà ma risusciterà ormai è stato arrestato sottoposto a un sommario giudizio e i farisei stanno gettando giù la maschera non simulano non sono più ipocriti fanno vedere quella che la loro vera natura insieme ai sacerdoti manifestano quelle che erano i loro reali sentimenti nei confronti del signore avevano aspettato da tempo che gesù in qualche modo potesse essere colto in fallo avevano desiderato di poter fare quello che stavano facendo e avendolo tra virgolette costretto a confessare che era il figlio di dio finalmente avevano trovato la scusa per accusarlo di bestemmia e quindi di poterlo far morire di certo in quel momento particolare nessuno si accorgeva di quello che stava veramente succedendo perché nessuno in fin aveva realizzato appieno che fosse gesù tranne lo sparuto o gruppo di discepoli e pietro aveva detto tu sei il cristo il figlio del dio vivente e gesù aveva detto mi raccomando non ditolo a nessuno che gesù fosse veramente il messia promesso probabilmente lo credevano solo discepoli e qualche dubbio nella loro mente in effetti c'era anche in quella mattina mentre ancora gerusalemme stava dormendo ignara di un giorno così intenso e particolare come quello che lo stava attendendo il ge il sinedio aveva ascoltato il gesù che ammetteva la sua natura divina e aveva potuto gridare è reo di morte in modo da poterlo sottoporre al giudizio gesù come sappiamo non era reo di morte perché non aveva bestemmiato egli veramente era ed è il figlio di dio venuto in carne e mentre lo stanno schiaffeggiando percuotendo mentre lo stanno disprezzando gesù avrebbe potuto reagire in mille modi e in mille maniere e da un punto di vista umano avrebbe avuto di sicuro la nostra solidarietà avrebbe potuto dire chi è che lo stava percuotendo e schiaffeggiando perché egli è l'onnisciente egli leggiamo nella parola di dio che spesso contraddiceva prima ancora che parlassero i farisei o gli iscrivi perché conosceva i loro pensieri egli avrebbe potuto come aveva detto qualche tempo prima a pietro che aveva sguainato la spada per difenderlo chiamare una legione di angeli per poter fargli giustizia e in un soffio in un attimo tutti quei nemici di cristo sarebbero stati distrutti avrebbe potuto fare tante altre cose come in passato sarebbe potuto passare in mezzo a loro senza che nessuno lo toccasse e avrebbe potuto così salvare la sua vita lo avrebbe potuto ma non lo ha fatto e ciò che lo ha affermato è l'amore che egli nutre per l'uomo e la consapevolezza che egli era venuto su questa terra proprio con quello scopo vale a dire di dare la sua vita per la salvezza di chiunque crede avrebbe potuto ma non lo ha fatto perché il suo amore l'ha inchiodato in quella posizione e lo ha spinto a subire ciò che non era giusto che subisse pur di poter dare ad ogni uomo ad ogni donna l'opportunità di essere salvati attraverso la fede nel suo sacrificio avrebbe potuto fare ma non lo ha fatto credo o innanzitutto per ciò che ho detto finora ma anche per lasciarci un esempio un esempio glorioso di quello che deve essere la nostra attitudine dinanzi al mondo incredulo e dinanzi alle accuse delle volte ingiuste che ci vengono rivolte anche stefano imitando il maestro di lì a poco verrà lapidato a causa della sua fede nel signore ma in silenzio anche egli subirà quello che subì cristo e anche egli dirà quello che gesù dirà sulla croce padre ti prego non imputare loro questo peccato e possa il signore aiutarci affinché ogni giorno ricordiamo quello che cristo ha subito a causa del nostro peccato affinché possiamo proclamare che c'è una sola via un solo modo per poter ottenere la salvezza dell'anima vale a dire la fede nel sacrificio di cristo come mezzo di riscatto per la propria anima stessa e ci fosse il signore aiutarci ad avere delle reazioni secondo cristo affinché noi diminuiamo e lui cresca e il suo modo non solo di parlare di agire ma anche di reagire possa essere visto nelle nostre vite ci aiuti il signore a poter veramente anche in questo onorare il nome di cristiani perché è facile portare questo nome ma molto difficile vivere secondo questo nome un grande predicatore del passato diceva che per diventare cristiani ci vuole un attimo confessare i peccati pentirsi ravvedersi invocare il sangue di cristo ma per essere dei cristiani non basta una vita perché c'è sempre qualcosa da imparare dal signore e forse stamattina il signore ci vuole insegnare o magari anche semplicemente ricordare come un figlio di dio reagisce su questa terra anche dinanzi ai torti che subisce e il signore ci aiuti ci aiuti affinché possiamo essere veramente luce di questo mondo e sale di questa terra che la grazia l'amore la presenza la pace e la pazienza del nostro dio ci possano accompagnare ancora oggi dio ci benedica insieme